una sosta quindi non c'è impoverimento e non c'è nemmeno in rapporto a un tempo perché non funziona il tempo quindi non si può dire ma sarebbe stato più ricco se avesse fatto il problema del tempo non c'è quindi non c'è questo tipo di discorso io mi rendo conto che questo complica forse le vostre visioni dell'altro mondo ma le complica soltanto perché voi siete abituati a vedere le cose secondo una descrittività di tipo fisico per cui allora l'altro mondo è costituito comunque da uno spirito il quale è sotto il giudizio di un altro oppure sotto il giudizio di Dio e viene assolto o condannato ed è costretto che so io per un certo tempo a dover pagare il male che ha fatto questo è il discorso che voi fate è indubbiamente un discorso che funziona a livello così di esemplificazione di un'apparente giustizia non funziona più invece quando andiamo ad esaminare più da vicino la struttura dello spirito quando ci andiamo a vedere che questo spirito è un campo di forza è dunque un coacervo di funzioni che sono il trasferimento delle funzioni da Dio alla unità chiamata spirito e questo spirito si muove in quest'altra struttura dell'universo regolata da certe leggi e si muove in base a sue leggi questo stesso spirito e dunque c'è un rapporto tra il sé spirito e l'universo in base a una volontà di Dio che è una volontà voglio dire tra virgolette nel senso che Dio non ha prescritto a nessuno di noi quello che dobbiamo fare e se io guardo, dico guarda su me stesso ma potreste farlo anche voi ma io perché ho questo riconoscimento in quanto non ho il corpo bene, non c'è nessuno che mi dica caro spirito devi fare questo e quest'altra cosa questo è il tuo limite oltre di qua non puoi andare oppure il programma che tu devi attuare è questo oppure io formolo un programma bisogna che qualcuno me lo approvi non esiste niente di tutto questo eppure c'è comunque questa comunione fra me e la legge tra me e altri spiriti tra me e le funzioni di cui sono investiti gruppi o masse spirituali voglio dire che si riconferma quanto noi stessi spiriti durante la nostra evoluzione abbiamo scoperto e capito e amato e cioè che non c'è bisogno che Dio ci venga a dire, a confermare, a provare ed avallare perché Dio è continuamente vivo dentro di noi e dunque Egli nel momento in cui noi decidiamo è Lui che avalla la decisione si tratta di una simultaneità di un'analogia costante e continua Dio vive attraverso di noi e si esprime attraverso di noi e dunque la nostra vita è anche la vita di Dio e voglio dire Dio sarà anche un'altra vita ancora oltre la nostra e questo è un problema di Dio non è tanto più un problema nostro ma non c'è alcun dubbio che Dio vive anche attraverso di noi e dunque noi come lunga mano di Dio finiamo con l'attuare una serie di strategie, di comportamenti, di vita dello spirito sui pianeti, fuori dei pianeti, da spirito con strutture universali o meno addosso non è importanza tutto questo ma la nostra vita si manifesta come espressione della vita di Dio per cui la nostra attività è automaticamente quella che Dio non potrebbe non volere perché noi nel vivere e nella reguarcia all'universo viviamo comunque anche la vita di Dio e questo anche nelle sfaccettature apparentemente negative perché poi qui interviene l'altro discorso che non c'è una vera in evoluzione e non c'è un negativo e un positivo non c'è un bene e un male ma c'è l'attività, la funzione vitale dello spirito che si esprime con una serie di modalità che coinvolge gli altri poiché la vita dello spirito è sì una vita individuale ma è contemporaneamente anche una vita collettiva noi siamo soli ma siamo soli con gli altri cioè siamo soli con gli altri esseri viventi nell'universo e in tutto questo noi siamo l'altra faccia dell'universo voglio dire che anche gli atomi sono soli ma solo sono nell'insieme di una struttura materiale e quindi ciascuno vivendo la propria individualità la vive collettivizzando questa individualità cioè portendola continuamente a confronto coinvolgendo gli altri nella propria esistenza individuale questo soprattutto per lo spirito si verifica ma naturalmente nel piccolo si verifica anche per l'essere umano ecco perché quando si vuole parlare di giudizio dello spirito dopo la morte noi incontriamo certe difficoltà a farci capire gli uomini sono abituati a ragionare un po' per per pene per premi e dunque c'è un paradiso, un inferno in pratica qualunque sia la metafora di questo inferno questo paradiso io dico che in un certo senso c'è e non c'è voglio dire non c'è nella pratica c'è se consideriamo il momento dello spirito che valuta voglio dire è la sofferenza che ha potuto arrecare gli altri ma si tratta di un discorso molto relativo lo spirito sa bene che se ha dato sofferenza alla sorella la sorella che ha scelto di soffrire e quella sofferenza le ha portato magari del bene perché non c'è sofferenza che non porti maturazione e questa è una verità io dissi una volta Dio non ha prescritto la sofferenza quindi lontana da voi l'idea che veramente sia vero quello che dicono gli uomini che attraverso la sofferenza l'uomo si matura e raggiunge il bene questa non è una prescrizione di Dio è però vero che la sofferenza aiuta a capire e questa è una constatazione dipende però questa constatazione dal fatto che siete uomini in effetti il meccanismo per cui la sofferenza porta al bene è un meccanismo esclusivamente umano strettamente biologico e psicologico e soprattutto psicologico ma lo spirito non cammina così se lo spirito dovesse evolversi attraverso la sofferenza noi staremmo a rivedere tutta la nostra teorizzazione su Dio voglio dire che veramente allora Dio avrebbe condannato lo spirito a una sofferenza eterna vista che lo spirito vive per l'eternità e quindi sarebbe costretto continuamente a soffrire e questo non sarebbe ammissibile quindi dovremmo rifondare il concetto della divinità ma invece fuori della terra non si verifica questa drammatica situazione per cui lo spirito soffrendo si evolve in effetti questo accade sulla terra perché la sofferenza crea un distacco tra la materia e la psiche cioè crea un'alterazione praticamente del rapporto verso la materia con una serie di sublimazioni di trasformazioni simbologiche anche mentali eccetera voglio quindi ancora una volta rivendicare alla divinità la misura della grandezza intorno a questa offerta veramente infinita straordinaria di conferimento allo spirito della evoluzione senza e quindi indipendentemente da ogni qualsiasi sofferenza intesa sotto qualsiasi punto di vista ma è l'evoluzione come discoprimento della propria natura spirituale che è un discoprimento gioioso tra virgolette per intenderci gioioso cioè fecundo luminoso espansivo che viene dalla struttura interna dello spirito in questo meccanismo di costante vicinanza perché poi vi rendete conto che a questo punto c'è una costante vicinanza tra lo spirito e Dio c'è una compresenza non c'è bisogno di dire Dio è là e Dio risponde o Dio ascolta c'è una compresenza aumenta la percezione della compresenza aumenta la percezione della compresenza e quindi il riconoscimento è talmente radicato perché proviene dalla propria natura stessa come voi siete convinti e radicati nell'idea di vostra madre e di vostro padre che comunque potranno essere morti o vivi ma sono esistiti e nessuno di voi può dubitare che abbia avuto una madre e un padre e così non è necessario che essi siano viventi per amarli per pensarli per saperli magari vicini per chi crede nello spirito non c'è bisogno di tutto questo ora trasformate questa visione così molto umana in una in una intuizione di carattere spirituale quale lo spirito l'ha costantemente cioè l'intuizione che è conoscenza radicata dell'esistenza del padre di questa paternità che al di là delle simbologie al di là delle metafore delle descrizioni pittoriche e anche del termine stesso molto insulso poi quale quello del padre della madre termini del tutto umani ma il concetto di essere radicati in una realtà da cui si proviene questo è il punto di una realtà che prescinde dalle proprie esistenze il provenire da un'altra parte che il se stesso è stato generato quindi di essere un generato una generazione di qualcuno che è stato a monte questa radicazione della persuasione è questo il senso dell'appartenenza all'universo alla divinità insomma a colui che poi molto umanamente col vostro vocabolario molto insignificante chiamate padre madre figlio e poi sentimenti amore fratellanza tutte cose che fanno parte del vostro linguaggio quotidiano ma che fuori si devono trasformare in queste percezioni di radicamento nella struttura dell'universo generata da un generatore cioè da colui che chiamiamo il padre Dio la nostra essenza primaria questo è il discorso ed è chiaro che portato a un limite più alto questo discorso fa perdere di senso il concetto di colpa di piccola colpa di perdono di misericordia sono sciocchezze sono veramente cose sciocche da non potersi più portare in un ragionamento così così ampio così significante della radicazione della propria essenza in qualcuno in qualcosa da cui si capisce poi possono promanere ecco i singoli atti quotidiani all'interno di un rapporto un bene o un male fatto o non fatto ma in un problema di crescita generale dello spirito di una crescita che è proprio vista come quella di un bambino al quale noi non diremmo mai mio caro stai facendo il male e il bene perché un bambino che cresce può anche romper tutto o può anche voglio dire scappar via o può anche far qualsiasi atto senza che adesso noi assegniamo un significato poiché la crescita implica proprio l'esperimento continuo e continuato di se stesso in un universo sconosciuto bene l'evoluzione dello spirito è questo è il cammino di uno spirito in qualcosa che gli ha ancora sconosciuto che altrimenti non sarebbe un cammino ed un cammino che è una esplorazione continua nel campo di questa esplorazione e lo spirito può fare quello che gli pare se tutto questo coincide con una crescita di questa esplorazione di questa esplorazione che è un'esplorazione 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 ma che è un'esplorazione Grazie a tutti